La morte di Michela Strever, trovata legata e imbavagliata nella sua abitazione a Vasto, sarebbe avvenuta per soffocamento causato dai fazzoletti utilizzati per tappare la bocca. E' questo il parere del medico legale Pietro Falco che ha eseguito l'autopsia presso l'obitorio dell'ospedale San Pio. La vittima, di 73 anni, presentava anche un trauma toracico con fratture interne provocate dall'aggressore per immobilizzarla. La morte dell'anziana sarebbe stata pressoché immediata nel primo mattino. Ad aggredire Michela Strever, secondo i risultati dell'esame autoptico, potrebbe essere stato un solo uomo. Maggiori indicazioni sull'omicidio potrebbero provenire dagli esami dei carabinieri del RIS di Roma che sulla scena del crimine hanno prelevato del materiale organico dalle unghie della donna. Michela Strever viveva sola nella sua abitazione incontrata a Villa De Nardis. A ritrovare il corpo senza vita è stato il fratello Tonino. La donna era stesa su un lettino nascosta da una coperta con le mani legate e dei fazzoletti in bocca. Un particolare al vaglio dei militari della compagna di Vasto. Qualche settimana fa la vittima avrebbe ricevuto la visita di qualcuno che aveva cercato di entrare nel casolare dove la pensionata viveva da sola. Lo ha raccontato la cognata Carmela e i giornalisti. Da verificare se ci sia un collegamento tra questo episodio quanto avvenuto la mattina del 19 dicembre. Grazie. 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 Grazie.